Per scoprire l'origine delle ostie che usiamo durante la messa dobbiamo tornare alla Pasqua ebraica, quella che celebra la liberazione della schiavitù del popolo di Israele per opera di Dio. La notte in cui il popolo lasciò l'Egitto lo fece di fretta per non farsi scoprire dai soldati del faraone. Presero con sé un po' di cibo per il viaggio, in particolare del pane che era uno dei cibi per loro più usati, avendo però poco tempo dai soli ingredienti di farina, acqua e lievito con cui era fatto il loro pane tolsero il lievito perché non avevano tempo di aspettare che la farina lievitasse qualche ora come al solito. Quello che prepararono prende il nome di pane azimo che gli ebrei usano durante la cosiddetta cena ebraica, quella in cui fanno memoria della Pasqua. Anche Gesù nell'ultima cena usa il pane azimo, solo che nell'ultima cena Gesù compie il miracolo di rendersi presente in quel pane dicendo questo è il mio corpo. Da allora quel pane azimo che per miracolo di Gesù è diventato Gesù stesso, pur rimanendo pane, prende il nome di Ostia, parola che significa vittima, per ricordare che Gesù spezzerà il suo corpo morendo sulla croce. Così in ogni messa il pane azimo detto Ostia per miracolo diventa Gesù che si dona. Solo per comodità le ostie hanno forma tonda e sono molto sottili per essere consumati in fretta, senza che così si manchi di rispetto in qualche modo a Gesù diventato pane e le ostie vengono anche dette particole.